Salve a tutti ragazzi, qui il nome del 5310 del canale Storia Italia e benvenuti in questo nuovo video. Quest'oggi parleremo di alcuni dei veicoli che fecero parte del reggio esercito fin dal 1940, ma che per lo più rimasero sconosciuti. Ma di che cosa stiamo parlando? La vicenda che vi voglio raccontare è quella dei cari francesi, che vennero ottenuti dall'esercito italiano come preta bellica dopo l'arquistizio del giugno 1940. Essa merita di essere analizzata con la dovuta attenzione. Ovviamente alla fine del 1940, dopo le prime pesanti sconfitte in terra africana, gli italiani si trovarono a dover far fronte ad un'impreparazione tecnica quasi imbarazzante. Le deficienze del caro M11 furono riscontrate durante i primi combattimenti e la produzione appena iniziata del caro M13 lasciarono le nostre forze armate in baria del nemico senza un'adeguata protezione. Dopo aver diretto quasi tutti i mezzi disponibili verso Bengasi per ricostruire le parti M11 e ormai decimati dagli scontri e soprattutto dalle continue magagne meccaniche, il nostro Stato Maggiore cominciò a mani in cuore ad ospicare un aiuto dell'alleato tedesco, preferibilmente di mezzi. Ovviamente il vero apporto sarà rappresentato dall'invio dell'Africa Corps, ma limitatamente al discorso in questione. Bisogna anche ricordare che durante l'inverno del 40 la Germania, pur non essendo assolutamente disposta ad armare le nostre divisioni corazzate con i suoi Panzer, decise di accogliere parzialmente la richiesta italiana, costegnandoci parte dei carri militari sottratti ai francesi. Il materiale offertoci non poteva di certo considerarsi la vanguardia, anche perché a pezzi migliori, tipo la Doblind o Paner da 178, che era molto simile ai nostri B41, vennero prontamente ricorporati nei ranghi di teschi. La stessa fine, toccò ai Renault B2 o Sharp B1 bis, che erano un discreto carro pesante da 30 tonnellate, dotato di un'ottima carazzatura fino a 6 cm, una velocità piuttosto discreta, se andava dai 27 ai 28 kmh massimi, e un possente armamento, un 47 mm in torretta e un OB175 in casa alta. Cosa ben diversa era invece il Somua S35, uno dei migliori cari meti della prima parte del conflitto. Era protetto con ben 4 cm di corazza in fusione non in bullona da scudo, era veloce, arrivava fino a 40 km orari, e aveva un ottimo armamento, con il solito pezzo da 47. Questo carro sul classava il nostro M3G sotto ogni punto di vista. Infine, vi era il Renault 35, ho detto anche R35, che pesava esattamente 9,8 tonnellate. Il solvamento era composto da un carone semi-automatico in torretta da 3720, abbinato ad una mitragliatrice coassiale a Chatello Rho da 7,5 mm, e poteva essere considerato un valido carro leggero di riserva. Era penalizzato solamente dalla sua limitata autonomia, solamente 140 km. Il fatto sta che i cari francesi incominciarono a giungere in Italia nelle prime settimane del 1941, suscitando non poche speranze fra i generali italiani. Si pensò addirittura di costruire una compagnia su un protone sumua, un R35 e un auto-vinto, e di inviarle in Africa per testare le capacità operative di questi due carri. Esse furono solo parole, però, perché in realtà i cari francesi, cadere corrispondenze del generale Cavallero, che risultavano essere stati solamente 124 Renault 35 e 32 Sumua, più qualche B1 bis, la cui presenza non è mai stata documentata con precisione, essi vennero riuniti nel 131esimo reggimento carri, costituito da due batterioni R35 e da uno Sumua, ed inviati i primi due in Sicilia e l'ultimo invece in Sardegna. Non disponendo di partiti di cambio, questi mezzi non potevano essere mai sfruttati, e nel caso dei Renault dislocati in Sicilia c'è da dire che molti di questi vennero utilizzati come batterie fisse durante lo sbarco alleato. Risulta addirittura che alcune torrette di questi mezzi francesi vennero utilizzate per armare postazioni in calcio struzzo di difesa costiera. C'è da dire innanzitutto che l'offerta che fece il generale Fontroma all'Italia fu di 350 Renault R35 e che fu un po' incrementata a 500, ma come avevo già detto ne furono consegnati circa 140. Resto il fatto che questi carri, diciamo 109, erano distribuiti come abbiamo genetito in Sicilia e parteciparono agli sbarchi alleati del 43. Essi furono utilizzati per il contrattacco su Gera. Quindi allo sbarco in Sicilia, al momento dello sbarco in Sicilia, essi vennero inquadrati nella divisione di Rivorno al comando del generale Ruzoni. Esso volle dirigere un contrattacco verso Gera in collaborazione con la prima Panzer Division e Van Gogh Ring, che era dotata di Panzer IV e 17 carri pesanti Tiger I. Però tra le forze talotedesche mancarono direttamente collegamenti del tipo logistico e anche di coordinamento. Cioè, mancava qualsiasi coordinamento. Infatti a Gera arrivò solamente le due colonne corazzate costruite da Cuzzoni composte da R-35. Esse attaccarono e praticamente le divisioni ranger si trovarono diciamo nei casini. Più che altro perché richiesero un supporto aereo e il supporto aereo non arrivò. Però chiesero anche il supporto navale da uno dei incrociatori leggeri presenti sulla costa. esso sparò e fece fuori quasi l'interità delle due colonne corazzate. Mentre altri due o tre carri furono fatti fuori dai ranger stessi. Uno da un pezzo anticaro da 37 mm mentre l'altro da un colpo di bazooka. Questo però ci fa riflettere perché mentre le deschi utilizzarono ampiamente i carri R-35 e anche la totalità dei carri francesi nelle aree occupate per la difesa delle metropoli quindi delle città noi invece li considerammo lenti e con scarsa capacità offensive e ne scoraggiammo di importazione. Essi finirono praticamente abbandonati al loro destino senza un effettivo utilizzo pratico. E niente ragazzi fatemi sapere cosa ne pensate voi sui cari francesi di Predabellica. Lasciate un mi piace mi raccomando iscriviti al canale se lo avete già fatto e noi ci vediamo al prossimo video. Alla prossima. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Grazie.